Dopo il sopralluogo effettuato con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, qual è la risposta che dà l'amministrazione comunale, Vice Sindaco? Credo che la risposta l'ha data voi con le vostre immagini, che danno l'idea di come si trova la piscina. Si era sparsa in giro la voce che la piscina era stata vandalizzata, quindi distrutta in macchinari e altre cose. In realtà tutto questo non corrisponde al vero e devo dare atto ai miei concittadini che fanno parte del Movimento 5 Stelle che hanno preso atto che le strutture e tutto è in regola. Noi come amministrazione abbiamo ricevuto una richiesta da parte del Movimento 5 Stelle di un sopralluogo che è stato accolto immediatamente. Appena arrivata la lettera io personalmente mi sono messo in contatto con loro e abbiamo stabilito un sopralluogo per oggi. Devo dire che tutto è a posto, i macchinari sono a posto, le strutture sono a posto, c'è solo di trovare il sistema, cercare il sistema di darlo in gestione per rimetterla finalmente in funzione. Far ritornare la piscina funzionante come l'è stato per diversi anni. E come intendete muovervi vice sindaco? L'unico sistema possibile è quello del banto di gare. Qua si chiede un affitto irrisorio, si parla di 200 euro al mese per l'affitto, non solo della struttura, della struttura del suo complesso. Non c'è solo la piscina ma c'è una palestra, ampi saloni. Quindi una società ben organizzata potrebbe fare non solo nuoto ma anche altre attività. Noi speriamo che delle aziende che si occupano del settore partecipano al successivo banto di gare. Grazie. Grazie.